Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema scottante anche ai giorni nostri, nonostante siamo nel 2016, ma per interpretare il presente bisogna guardare il passato e quindi Marcinelle è sicuramente un punto di svolta. Sì, è un punto per noi, per la nostra memoria molto importante in particolare di questo territorio provinciale perché l'8 agosto del 1956 a Marcinelle in Belgio morirono 12 cittadini del nostro territorio regionale e 9 del nostro territorio provinciale fra le 260 vittime di quella tragedia. Noi attraverso questo omaggio che abbiamo voluto rendere a quella vicenda, a quella tragedia, abbiamo voluto anche provare a dare alla città di Fano, in particolare lunedì sera a 8 agosto al Teatro della Fortuna, una lettura possibile del presente. Quindi le ragioni per cui uomini e donne decidono a un certo punto della loro vita, fra mille difficoltà, di prendere la loro valisa e andare a lavorare altrove, a spendere le loro energie altrove in condizioni anche molto molto difficili. Quindi nel rileggere queste radici vogliamo anche tentare di rileggere il lavoro attraverso la memoria di Marcinelle. Grazie.